Ciao a tutti, sono Greta e io sono Giorgia e insieme siamo le Gigi Channel Oggi faremo se non canti perdi, se non canti Allora questa challenge l'ho visto E non mi ricordo come si chiama, vabbè comunque ok E ora un secondo chiudo la porta e aspettate Ok, ho chiuso Allora, se balli o canti vinci, non ho senso E questa, però io... Se canti vinci, ecco, non se balli, canti vinci Vabbè sì, posso fare Attenzione, per un'esperienza migliore si consiglia l'unico delle cuffie, buona visione Ragazzi siamo trasformate Ok, vai Aspettate Aspettate Ok, scopo, stai affidando Ok, scopo, stai affidando Padre, andata I see a bow, rimand in my head Lesson by said, don't you trust him, no Sunt of our mercy, but he do is there L'ai-na-di day, but no where he go No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sì, 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 sì. No, he did. Two, one, good action! No, no. No, no. E' una durata acerta, la l overstrava, e la scena. e la scena, non ci si non, non im�이ilo oppure. e la scena, non ci sce, dò della scena, non incendi la scena, non mi cha, non micidosi. e la scena, non mi logache, buono macchine, mi sa si e nella scena, mi sa si ingegna a considerare un'ocardsati. wastearna, gavno ave Levi Winter, specendo che lo stavano dice Mh валiciano vomito Vnes Elizabeth Celso. Prasnando, rotta dal il mio. e si non il donore è storia Dessimelo amardo da lecc planeta Si sull 쓰ci samo e hai Chia PPE Mi casa non è? Questa è generale è Diesel fa bene? Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.